Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi parleremo di denti! Tutti sogniamo di avere dei denti drittissimi, bianchissimi, ma non tutti possiamo permetterci di andare dal dentista. Io ho la soluzione che fa per voi. Molte volte mi è stato chiesto come fai ad avere i denti bianchi, come fai a usi dei trucchi, va del dentista. Parto col dirvi che non sono bianchissimi i miei denti, non sono bianchissimi come quelli che potrei avere dopo uno smiancamento dal dentista, però ho i miei trucchetti pure io. Tutto naturale, come sempre, utilizzerò esclusivamente prodotti che potete tranquillamente trovare anche nella cucina di casa vostra. La cosa più importante, oltre a questi rimedi, è la cura dei propri denti, proprio nella propria routine. Lavarsi i denti, almeno tre volte al giorno, con filo interdentale e spazzolino. Voglio precisare una cosa che io vi posso dare i miei trucchetti, ma quel che è certo, che una figura professionale come un dentista è molto più competente rispetto a me. Iniziamo col primo trucchetto. Di che cosa abbiamo bisogno? Di carbone! Sì, eh sì, ma non sareste mai aspettate il carbone. Anch'io qualche anno fa non avrei mai detto il carbone, il carbone nei denti. Invece sì, ragazzi. Questo trucchetto è il tipico, diciamo, rimedio della nonna. Dove l'ho imparata me l'ha insegnato i miei cuginetti in Marocco. Anch'io inizialmente ero stranita, ma che stanno facendo? Ragazzi, i risultati sono pazzeschi, quindi ottimi. Ho preso il carbone e l'ho picchiettato per renderlo polvere. Come potete notare. Seconda cosa di cui abbiamo bisogno, uno spazzolino da denti. Ok, iniziamo. Ho bagnato lo spazzolino. Allora, io solitamente questa cosa la faccio in bagno, anche perché il carbone va ovunque, mi sport e tutto quanto. Quindi consiglio, non fatelo in camera. Ok, carbone, spazzolino. Inseriamolo dentro. Prendiamo la polverina. E ora laviamo i denti in modo naturale, come se fosse un dentifricio. Iniziamo. Allora. Allora. questo è il risultato sto scherzando ragazzi non vi spaventate il nero se ne andrà quindi dopo vi ciacquate la bocca continuo bianca assicurata ok ragazzi adesso potete sciacquarvi i denti tranquillamente ok ragazzi sono tornata mi sono anche un po' raccolta i capelli perché c'è veramente tanto tanto canto il risultato ok e naturalmente questa è una cosa che bisogna fare periodicamente io questa la faccio almeno una volta a settimana invece il secondo trucchetto che vi mostrerò tra poco lo faccio una volta a settimana una settimana sì e una settimana no perché diciamo che lo trovo un po' più invasivo quindi preferisco farlo un po' di meno questo invece lo faccio un po' di più una volta a settimana ho cambiato spazzolino perché l'altro è diventato nero mi conveniva usare questo tra l'altro vi do un consiglio quando utilizzate queste cose comunque fate questi trucchetti queste maschere questi chiamatele come volete potete anche utilizzare questi spazzolini che sono di carbone vegetale quindi diciamo che è un trucchetto in più ecco ok iniziamo col secondo trucchetto di che cosa abbiamo bisogno prima cosa la mia immancabile ciotolina che naturalmente avrete visto se mi seguite negli altri video che vi metto tutti in descrizione giù 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 potete trovare tutti gli altri miei trucchetti naturali e i vlog e niente giù 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 mi raccomando e mi raccomando già che ci sono vi dico iscrivetevi al canale mettete mi piace primo ingrediente è un cucchiaino di latte secondo ingrediente un cucchiaino di aceto di mele terzo ingrediente un cucchiaino di limone quarto ingrediente un cucchiaino di bicarbonato quando metterete il bicarbonato si formerà una mousse è del tutto naturale quindi non vi preoccupate mescolate mescolate bene il tutto come potete notare la mousse c'è dopo aver mescolato per bene potete prendere il vostro spazzolino inserirlo dentro la mousse e lavarvi i denti normalmente come vi ho spiegato prima come fareste anche col dentifricio iniziamo ok come potete notare dalla mia faccia non amo tutto questo mix di ingredienti il gusto il gusto non mi piace per niente però il risultato si nota anche ad occhio nudo e questo questo trucchetto lo utilizzo una settimana sì e una settimana sì e una settimana no dopo aver lavato i denti con tutta questa mousse li rilavo con i dentifricio normale adesso vado a lavarmi i denti e poi torno da voi e rieccomi risultato finale come vi ho detto e questo ultimo trucchetto lo utilizzo una settimana sì e una settimana no perché lo smalto dei nostri denti è troppo importante quindi dobbiamo cercare di non rovinarlo e di non aggredirlo troppo e niente spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e niente adesso tocca a voi provare questi trucchetti e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video se conoscete questi trucchetti se ne conoscete altri e nulla mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto like di supporto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao